Il filobus non passerà sulla strada parco, almeno per un altro anno. Su richiesta del comitato strada parco bene comune, il Tar d'Abruzzo ha sospeso il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture, che circa sei mesi fa aveva dato il via libera al passaggio del filobus sull'ex tracciato ferroviario tra Pescara e Montesilvano. La prossima odienza ci sarà il 14 ottobre 2022. Il Tar evidenzia problematiche ambientali per il taglio di siepi e alberi e di sicurezza stradale, in quanto gli iniziali mezzi a guida magnetica sono stati sostituiti con quelli a guida manuale, senza risolvere i rischi negli attraversamenti pedonali. Esulta il comitato cittadino, mentre il comune di Pescara e la società di trasporto pubblico abruzzese hanno annunciato il ricorso in Consiglio di Stato. Sono 30 anni che si sta dal finanziamento dell'opera, sono 30 anni che per un motivo per un altro un numero ristrettissimo di persone che si oppongono alla realizzazione di quest'opera stanno di volta in volta creando condizioni perché ci siano dilattazioni successive. Noi naturalmente non crediamo che le motivazioni adotte e in questa fase accolte in termini di sospettiva siano tali da non essere osservate. Faremo ricorso al Consiglio di Stato. Dal transito dell'ultimo treno nel 1988 il primo progetto risale alla 1992, l'ultimo è stato riconfermato nel 2020. In questi anni sono stati spesi circa 20 milioni di euro. E se i giudici dovessero continuare a bloccare tutto, i soldi spesi finora? Questo sarà evidentemente un problema. E' fiducioso che alla fine l'opera si farà? L'opera credo sia ineludibile e si faccia. Credo anche che il Consiglio di Stato porrà rimedio a quella che è un'interperazione molto benevola nei confronti dei ricorrenti e quindi da qui a, credo a fine anno, con una pronuncia del Consiglio di Stato ricominceremo ex novo questo tipo di percorso.